Lo so che siete quasi esausti ma abbiamo un altro paio di cose e poi vi mando a casa. Alle vostre famiglie, alle... Un'altra cosa in cui non abbiamo bene tenuto conto, adesso specificando il problema, prima vi ho accennato quale poteva essere il problema, adesso viene di vedere un altro, ma noi non abbiamo bene, abbiamo parlato di superficie evaporanti in modo generico, ma se noi guardiamo una pianta per esempio, cos'è che è una superficie evaporante? Sono le foglie che sono... cioè la pianta evapora magari anche dal tronco a certe piante, però sicuramente è in misura minore delle foglie. Il modello che abbiamo sviluppato va bene per le piante o è un modello di foglia? Qualche modo il modello che abbiamo sviluppato è un modello di foglia. Ho fatto un modello, se lo coniugo all'idea delle piante. Ho fatto un modello che è come se io prendessi una foglia grande e assimilassi tutte le piante ad una singola foglia grandissima. e poi guardo su questa a calcolare il bilancio. In effetti queste teorie si chiamano big-lift theory, teorie della grande, non come big-bank theory, ma big-lift theory. Nei modelli globali e climatici, per esempio, c'è l'utilizzo di queste big-lift theory. Quindi ho fatto RS, radiazione ad onda lunga che va dentro, radiazione ad onda lunga che va fuori. Qui ho uso dei termini diversi. Le babbo traspirazione, il calore da 30, i nomi sono diversi, ma i concetti non sono assolutamente chiari. Ho fatto questo bilancio qua. Un'altra semplificazione che compare è che io in un landscape, in un paesaggio, ho tante cose. Ho dell'acqua libera in superficie, ho delle piante, ho delle piante alte e delle piante basse. Perché distinguo le piante alte e le piante basse? Perché un elemento sicuramente di tutta la questione è delle resistenze. L'unica cosa che noi sappiamo è che, per esempio, la resistenza aerodinamica dipende dall'altezza della vegetazione, dalla scabrezza del mezzo, rispetto al vento. E allora, per esempio, una prima semplificazione semplice che si fa a dire, beh, distinguiamo le pro piante e erba. entrambi e traspirano, la prima è una resistenza, una scabrezza di pochi centimetri, gli altri hanno una scabrezza di metri, quindi i coefficienti di resistenza cambiano. L'altra cosa, posso avere del suolo nudo, cosiddetto bare soil in inglese, se lo vedete bare soil, ci scrive bare, tra l'altro, non bare come osso. Cioè il suolo, il suolo di su evapola, però se guardate lì fuori, per esempio fate un po' fatica a distinguere dove c'è bare soil e dove c'è erba e vegetazione, è tutto un visto, quindi quando voi andate a calcolare lì dovete un po' mettere insieme la porzione che pensate derivi dalla traspirazione e la porzione che pure pensate derivi dal suolo. Poi qui, Michele, che è stato, cosa ha messo? Anche, ci sono anche, vabbè, ci sono delle parti urbane, cosa sono le parti urbane? Basta che guardiamo fuori dalla finestra, avremo due parti, per esempio l'asfalto, su cui si formano le fruglie delle superfici d'acqua, che ha delle sue modalità di evaporazione. Quando noi andiamo sul territorio, dobbiamo fare l'upscaling, si dice, dal punto alle aree dell'evaporazione dobbiamo tenere conto che ci sono tutte queste porzioni di area, ciascuna alle quali ha una sua dinamica differente e noi le dobbiamo mettere insieme. Allora lui che è un noto, supponiamo, un noto remote sensor, cioè uno che mi piacciono i satelliti, chi con lei, come, 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 magari qualcuno tra di voi c'è, che ama queste cose, cioè, allora dice, ma poi tutte queste robe qua io le vedo dal satellite. E allora, per esempio, c'è tutta una parte di sviluppo della ricerca che va a vedere, appunto, come separare le varie superfici che funziona, per esempio, di una classificazione di questo tipo, e poi su ciascuna delle superfici applica i coefficienti di parametri opportuni. poi, naturalmente, c'è il fatto che avete una pianta. Allora, cavolo, una pianta, guardiamole, le abbiamo fuori dalla finestra, guardiamole, ne abbiamo di due tipi. Abbiamo delle piante che sono sempre verdi, dal nostro punto di vista, quelle che sono le conifere, non è che cambiano gli agni anche loro, no? Che hanno una superficie traspirante molto più grande delle altre piante, che sono piante che rilasciano le foglie di autunno, e quindi, per esempio, i due tipi di pianta hanno una dinamica dell'evaporazione che è diversa. Quella parte lì dove c'è il platano, che perde le foglie, spero di non sbagliare, perché in questo momento perde le foglie, il platano perde le foglie, l'inverno non traspira niente, invece la conifera traspira anche l'inverno per dirne una. La superficie delle foglie, quante foglie ci sono su quel platano, quante foglie ci sono in termini areali? Beh, su una conifera ci sono molte più, c'è una cosa che si chiama rifare a index, che significa superficie delle foglie, indice di superficie delle foglie, che è quanta superficie di foglie c'è sulla proiezione della chioma di un andero, o canopy, come si chiama in inglese, come è chiamata. Allora, quant'è? L'ifare a index in aconifera. L'ifare a index in aconifera può essere anche 12, vuol dire che ogni metro di pianta ci sono 12 metri di superficie di fogliare. Una pianta latifoglia come le altre può avere 3-4 di limitare index, cioè voi misurate la superficie, c'è la superficie fogliare rispetto alla base 3-4-5 volte. Allora, diciamo, ma adesso ogni foglia, noi per ogni foglia possiamo scrivere lo stesso bilancio di energie che abbiamo considerato per una o per una o per una volta. Beh, in linea di principio no, perché, per esempio, se noi superiamo sia 4-5 di alle l'ifare a index, quindi ho una superficie potenzialmente evaporante che è 5 volte la superficie del suolo. Però, nello stesso tempo, su quell'area lì, per esempio, la quantità di energia che ci arriva è sempre la stessa e non è che 5 volte, solo che è divisa per 5. Ma se tutto è comandato dalla quantità di energia che arriva, questa è comunque costante e in particolare alcune foglie delle piante sono anche in ombra, quindi ricevo ancora meno radiazione perché a seconda della posizione del sole sono in certe ore in ombra, quindi quando noi consideriamo una pianta non è proprio così semplice calcolare come avviene l'evaporazione perché per scrivere il bilancio dovremmo scrivere il bilancio per ciascuna foglia e ciascuna foglia si trova in condizioni diciamo fisiche differenti. Fare questa operazione si chiama upscaling del nostro modello, del nostro Big Leaf Model e allora ci sono dei modi per esempio di calcolare qual è la parte di radiazione che viene che colpisce la nostra pianta e li vedete nella sostanza della nostra pianta che potrebbe essere una quercia in quel caso che in questo caso potrebbe essere sia sempre verde che perdere le foglie metà è il sole metà è in ombra le parti in ombra traspirano o no? cavolo traspirerà un po' ma non tanto quindi va ridotta la quantità di traspirazione fatta delle foglie in ombra può darsi che poi dentro all'interno la pianta abbia dei meccanismi di ridistribuzione per cui magari l'apertura degli stomi è fatta in modo differenziato dovuta all'evoluzione delle piante ma questo io in questo momento francamente non ve lo so dire è ragione per cui ci siano degli equilibri che si vengono a generare all'interno di una stessa pianta per cui da alcune parti alcuni stomi si chiudono altri si aprono di più e così via per mantenere un certo equilibrio comunque idraulico all'interno della pianta in questo caso l'upscaling delle nostre teorie si dovrebbe fare attraverso una teoria che tiene conto del bilanciamento insomma che l'organismo che è la pianta fa rispetto all'evaporazione che è una cosa che non ha fatto scontata ed è uno dei temi presenti per esempio ci sono delle teorie di ottimizzazione presenti una delle prime cose queste sono delle cose vedete ci sono delle varie calcoli allora di come potrebbe essere l'evaporazione quello nero che quasi non si vede è l'equazione di Pemma-Montiz quello in blu è l'equazione di Priessi-Taylor quello in azzurro è utilizzare la formula di Shimansky e Or con i valori a 3 uguali a 2 però con un l'ifare a index di 1 e l'altro con un l'ifare a index di 2 assumendo che però tutte le foglie in questo caso evaporino come vedete l'evaporazione cambia questo grafico in realtà vi rappresenta anche un'altra cosa che volevo di cui vi ho parlato prima cioè l'andamento che vedete qua è esattamente simile all'andamento della radiazione quindi la radiazione è fortemente dominante in queste le la temperatura però come vedete ha un andamento un po' particolare qui la temperatura dell'aria è misurata la temperatura della foglia in parte è in relazione alla temperatura dell'aria in parte al bilancio di energia della foglia e vedete che c'è una bella differenza di temperatura tra la temperatura della foglia e della temperatura dell'aria e in particolare la temperatura della foglia tende sempre ad essere un po' più calda della temperatura la foglia tende ad essere più calda della temperatura dell'aria questi risultati però sono risultati intermedi bisognerebbe andare a misurare tutte queste cose qua e noi non le andremo a misurare perché potremo fare esperimenti numerici per cercare di capire cosa può succedere di capire di capire